A pari merito con altri nove comuni, Venezia è arrivata ultima tra le 120 città che hanno partecipato nel 2016 al bando per le periferie indetto dal governo. È una brutta notizia che fa dispiacere perché erano soldi veri che erano stati messi dal governo nella finanziaria del 2016, 500 milioni a disposizione, già interamente finanziati e davano la possibilità per la nostra città di rigenerarsi veramente. Tra l'altro il bando aveva dei criteri che erano esattamente quelli della rigenerazione delle periferie dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sociale, culturale e dell'integrazione stessa della città. Questa bocciatura attacca il Partito Democratico non consente alcun finanziamento ai progetti presentati dalla Giunta. È la prova dell'assenza di un piano di rilancio per Venezia. Questa amministrazione vive alla giornata senza un minimo di visione bloccando addirittura progetti già pronti e finanziati da privati. Non si è letto nemmeno il bando perché il bando parla di città resilienti, di smart cities, di rigenerazione urbanistica di ampie zone di città e di integrazione culturale e sociale, quindi di urbanistica integrata che guarda avanti. Di tutto questo non c'è tratta, sono stati presi i vecchi progettini divisi in un dall'altro, di vecchi edifici, di piccole stazioni e questo non c'entra nulla con il bando e infatti questo è il risultato. Speriamo, concludono i democratici, che questa bocciatura serva almeno a dare una scossa da questa situazione di sconsolante immobilismo.